Un libro per celebrare il secondo centenario dell'Orto Botanico di Lucca, fondato nel giugno del 1820 ma completato nelle sue strutture nel 1822. Un orto prezioso, l'Orto Botanico di Lucca nel bicentenario della fondazione, questo è il titolo del volume edito da Maria Pacini Fazzi per l'Accademia Lucchese di Lettere, Scienze ed Arti, racconta in modo approfondito e con numerose testimonianze la storia del giardino scientifico lucchese voluto da due donne d'eccezione, Elisa Bonaparte Baciocchi, principessa di Lucca e Piombino e Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca. Un libro curato dal professor Tomei e voluto dall'Accademia di Scienze, Lettere e Arti, un'accademia che ha origini molto antiche, direi come l'Orto Botanico nasce in seno all'Università Lucchese nel 1820. Un libro che narra la storia dell'Orto, il contesto in cui nasce, ne descrive le collezioni, sia le collezioni viventi che quelle museali molto importanti, lasciateci in eredità dai nostri precursori ottocenteschi e che illustra le attività attuali e le prospettive. L'opera, che porta i contributi di tanti studiosi, celebra una tappa storica importante per l'Orto, ma vuole anche tracciare un indirizzo per il futuro di questo luogo di storia, scienza e bellezza che oggi conta oltre 35.000 visitatori all'anno. Con il riconoscimento della soprintendenza come bene di valore culturale ottenuto lo scorso marzo, l'Orto si apre così a una nuova stagione in cui proseguire il lavoro di ricerca scientifica e avviare nuovi progetti e iniziative anche con le scuole.